ciao ragazze grazie per aver partecipato siete state fantastiche spero di vedervi presto un abbraccio vi aspetto il weekend del 29 30 e 31 marzo sono presenti a misano c'è la prima gara del campionato italiano velocità categoria 600 super sport la mia ombra in linea sarà asia piccola trasmissione e con me